Un'intera comunità che si è stretta nel momento del dolore attorno al corpo senza vita di una donna, ancora con tante domande irrisolte. E' questo il segnale che Casamicciolo ha voluto dare ieri accompagnando Antonella di Massa nel suo ultimo viaggio, dopo le traversie percorse su questa terra. Un messaggio colto e sottolineato dallo stesso Don Gaetano Pugliese, uno dei due parroci della cittadina termale insieme a Don Gino Ballirano, che nell'omelia dei funerali nella chiesa gremita dei padri passionisti ha chiosato «La morte di Antonella avvicina tutti noi», perché davvero questo momento è stato un momento sentito e partecipato da tutta la comunità. Una comunità segnata dagli eventi degli ultimi anni, comunità della quale la famiglia di Antonella è un esempio perfetto in quanto colpita nel profondo dalla perdita della casa nel 2017 per via del terremoto e poi nel 2022 per via dell'alluvione, un conto troppo salato, quello pagato alla fine dalla famiglia Racco di Massa, cui resta il più difficile compito di andare avanti. Tuttavia la comunità della quale parlava Don Gaetano andava decisamente oltre i confini del comune, abbracciando l'isola tutta che ha saputo commuoversi di fronte a questo dramma e che ha partecipato, al di là dei risultati, sin dalle prime ore dalla scomparsa di Antonella alle operazioni di ricerca. Ora è il momento del silenzio, perché saranno le indagini a svelare i tanti misteri piccoli o grandi che si annidano dall'inizio in questa triste storia. Da quel mattino di sabato 17 febbraio, giorno della scomparsa della donna, sino al mercoledì 27, giorno della fine delle speranze in un possibile lieto fine.